Sì, ma ho problemi con il visore. Vabbè, non gli basta, ho chilometri. A ogni modo li vedo muovere verso il bunker. Ho copertura fino agli alberi, ragazzi. Dopo non vi vedo più. Andi in posizione io. Apriti verso sinistra se riesci rispetto a me. Primativo li sto passando sopra. Ok, abbiamo bunker 190, abbiamo bunker 190, abbiamo bunker. Andiamo su quello, lo consigliamo. Attento, rischi fuoco amico, occhio. Moviamo al bunker di destra o a sinistra, veloce. Contatto interno al bunker di destra. Tu ti scattare a destra, tu ti scattare a destra. Non avete copertura a destra, non vi vedo. No, però se riusciamo ad aggiungere il bunker abbiamo copertura dal bunker. C'è nel bunker. Eliminato il tango del bunker. Guardate in uscita nel bunker, attenzione. Tanciamo un'altra, non è un'altra. Muovere, 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 muovere. Metà squadra sul bunker di sinistra. Guarda, 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 guarda. Bunker di destra, non lo scatto. Lancio granata sul bunker. Avanzare sul bunker di sinistra. Avanzare sul bunker di sinistra. Arriviamo a farmi comprensione. Non lo scatto, non lo scatto. Vengono, io non ci dove giuare. Tutto informativo a sinistra di dove avete lanciato la fumogena. Vedo una struttura, non capisco il dolce. No, no. Cosa è il bombe? A nord-est Reggio Granata, l'altro bunker occhio vicino a Armin Bunker ripuliti, ripeto, bunker ripuliti Una pulita ragazzi Gua ha ricevuto squadra e copertura